Questo governo sempre incerto e non chiaro sulle posizioni per quanto riguarda i dossier economici a partire dal patto di stabilità e crescita, dove sta negoziando un margine di flessibilità molto ridotto, peraltro per il 2027, quindi per se stesso fino a tutta la durata di questo governo. Quindi Meloni in negozio un margine di flessibilità per se stessa e poi che cosa sarà dell'Italia un attimo dopo? Quindi tagli per quanto riguarda sanità, istruzione, sui cittadini, sulle imprese e quindi un cappio al collo, non si negozia per se stessi solo per la durata del proprio governo, si negozia nell'interesse dell'Italia, così fanno i veri patrioti.